La Juve è fede, amore e passione. Seguila con lo Juventus Club di Zanu Bianconera. Vieni a vedere con noi a Torino Juventus Young Boys, Champions League, seconda giornata della fase a Gironi, martedì 2 ottobre, ore 18.55, viaggio di andata e ritorno più biglietto stadio. Per informazioni, Juventus Club Lizzano Bianconera, piazza Matteotti 22, Lizzano. Per contatti telefonici, Antonio 348 80 888 03, Cristian 349 68 000 66, Giuseppe 347 04 17 623 e sempre Forza Juve, fino alla fine.